come conosci te stesso in primo luogo bisogna conoscere noi stessi ma conoscere cosa vuol dire vuol dire comprendere le ragioni del cuore le ragioni dell'inconscio eppure ci sono delle regioni del nostro cuore che con il tempo sono diventate inviolabili sono diventate come un bunker nel quale noi stessi non abbiamo più accesso e il compito dello psicoterapeuta è proprio quello di entrare in questa regione inaccessibile con un atteggiamento che consenta di non lasciarsi paralizzare dal dolore vedete la vita non può essere attesa di qualcosa la vita deve essere progettualità che parte dal presente deve essere capacità di vivere pienamente il quotidiano il rischio c'è il rischio c'è sempre ma è un rischio che profuma di libertà l'individuazione ha proprio questo scopo quello di liberare il soggetto dalla falsità della sua vita e dunque ha lo scopo di liberare il soggetto da cosa dal potere suggestivo di certe immagini mortifere dell'inconscio nell'inconscio non è riposta soltanto la saggezza della psiche c'è anche una parte negativa ci sono i complessi ma bisogna riconoscere che non c'è nulla di più difficile da tollerare che questi complessi che stanno in noi stessi nel nostro bunker e per individuarci dobbiamo portare alla luce gli elementi oscuri che albergano nel nostro bunker ognuno di noi in realtà può fare questo ognuno di noi può compiere grandi cose se se impara ad usare il proprio potenziale cioè se noi impariamo ad usare i nostri talenti e le risorse di cui siamo dotati il punto naturalmente è che per essere noi stessi dobbiamo volerlo e poi dobbiamo anche adoperarci per diventare noi stessi cioè una persona realizzata noi siamo responsabili delle idee che scogitiamo per realizzare noi stessi per rendere possibili i nostri sogni in tutto questo il desiderio è l'ingrediente essenziale che trasforma il nostro potenziale in azione e poi ci sono le azioni che conducono i fatti il desiderio è la madre della motivazione e nasce quando nella nostra vita succede qualcosa che cambia improvvisamente il modo in cui noi vediamo noi stessi questo è il classico punto di svolta che ci fa individuare il nostro scopo nella vita che poi sarebbe una visione da perseguire una visione le visioni sono fatte di immagini le immagini sono gli elementi dei sogni e i sogni sono collegati all'inconscio ecco perché sono importanti le immagini la visione è importante perché dà una direzione al nostro desiderio una progettualità l'azione ovviamente è alimentata dal desiderio è alimentata dalla perseveranza dall'impegno che noi mettiamo nelle cose e questo impegno è collegato alla motivazione la quale ci vincola ad una successione di azioni tese ad un obiettivo specifico le persone impegnate sono quelle persone che fanno cose specifiche per ottenere risultati specifici e sono persone consapevoli di questi risultati che ovviamente desiderano raggiungere l'obiettivo finale di tutto ciò resta la nostra visione e naturalmente si può fallire si cade da cavallo si resta delusi ma come dice il detto non siamo sconfitti se ci buttano a terra siamo sconfitti solo se restiamo a terra solo se non ci rialziamo bene io mi fermo qui e vi informo che faccio consulenze psicologiche online sia con la videochiamata sia consulenze telefoniche o via mail per cui se volete richiedermi una consulenza dovete scrivere un messaggio su whatsapp al numero 338 16 92 473 scrivendo come funziona la consulenza inoltre vi suggerisco di leggere i miei quattro libri che troverete solo su amazon e vi suggerisco di visitare il mio canale youtube dove troverete centinaia di altri video come questo canale youtube roberto ruga psicoterapeuta buona visione arrivederci non